Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Brawl Stars, i miei miei. Allora, che vi posso dire? Non vi dico nulla, vi dico semplicemente di ricordarvi di lasciare like, commenti e suggerimenti, mi raccomando, di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941, il link li trovate in descrizione, e se volete supportare il canale con delle piccole donazioni trovate anche il link nella descrizione per poterlo fare tramite Paypal. Detto questo ragazzoli, prepariamoci e partiamo per il video di oggi. Ok raga, allora, oggi siamo, noi intanto vediamo due cose nuove, intanto abbiamo due nuovi amici, che sono Chari, che c'ha 72 coppe, dai questo è messo come a me, dai, questo è messo peggio di me, grande Chari, te stimo, te stimo, accettiamo l'amicizia dei Chari, e poi Ximosi, con 9000 coppe, va bene, noi accettiamo anche lui, e siamo tutti amici, siamo tutti amici e contenti. Fatto questo andiamo in negozio, che c'è qualcosa di gratuito, ok, doppi aggettoni, andiamo a prendere i raddoppi aggettoni, signori miei, poi andiamo a dare potenza a Shelly, il nostro Super Saiyan, signori miei, con i punti di energia, 42 punti di energia, possiamo migliorarlo, grande, e anche il nostro Little Tony, signori miei, andiamo a migliorare il nostro Little Tony, 11 punti di energia, non riusciamo a farlo salire di livello, però va bene, però va bene, per ora non facciamo altro, perché anche ci stiamo a mangiare tutti i sordi. Allora, andiamo un attimino da Shelly, il nostro Super Saiyan, miglioriamolo, 140 monete, ma si, freghiamoci tutte le cose, non abbiamo più monete d'oro, raga, ci siamo a mangiare tutte le monete d'oro, bella così. Allora, che facciamo, raga? Allora, oggi invece di fare la raffagemme, andiamo a fare, nel frattempo lui mi dà monete sempre per queste cose, non so perché, andiamo a fare sopravvivenza, signori miei, in singolo, andiamo a fare sopravvivenza con il nostro Little Tony, vediamo se riusciamo a vincere, ricordate che abbiamo provato una sola volta questa modalità e l'abbiamo vinta con il nostro Super Saiyan. Vediamo cosa riusciamo a fare con il nostro Little Tony, signori miei, Zitti, 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 zitti. Riusciamo ad aprire queste casse? Riusciamo ad aprire queste casse? E' apriti, cassa. Cassa, apriti, ok. Apriti pure tu, cassa. Cassa, apriti. Cassa, apriti. Questo lì è già morto, noi siamo messi... No, mi ha fregato la cassa, abbastato, mi ha fregato la cassa. Quella cassa è esplosa, quindi mi sa che c'è sta qualcuno lì. Il Messicano passa, il Messicano passa. Che ammazzo che ammazzo bravi ammazza di ammazza di ammazza di lui è morto Lui è morto 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 si Raga ne abbiamo ucciso uno questo è già tanta roba siamo rimasti in quattro Stiamo cari abbiamo il supercorpo Abbiamo il supercorpo lì si stanno ammazzando e si stanno ammazzando, no è uno che gioca con la cassa No, no si stanno ammazzando proprio Vediamo di conquistare uccidilo 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 supercorpo grande ne abbiamo ucciso un altro siamo rimasti in tre raga Siamo rimasti in tre Siamo rimasti in tre Non abbiamo però più vita Questa cassa si può rompere? No 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 Quello mi fa paura Quello mi fa paura Quello mi fa paura Sopra il colpo Sopra il colpo Non abbiamo ammazzato Siamo in due Siamo in due raga Siamo in due Il nostro little Tony Il nostro little Tony Recopriamo tutta la vita prima però raga Dai 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 Dove stai? Fatti vede zio Dai 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 È caduto nell'acido Siamo morti Abbiamo vinto Abbiamo vinto raga Abbiamo vinto Grande il nostro little Tony Si porta a casa la vittoria Grande little Bello così Dai è così Grado 6 Tante belle coppe per noi Tante monete Tutto quello che volete Pichiamo un sacco di cose Bella così Alla grande raga Fermi tutti Abbiamo preso tanti pass E abbiamo sbloccato qualche cosa qui raga Nuovo evento Sì il football Bello così Dai è così Abbiamo sbloccato il football Signori miei Che però vedremo nel prossimo video Per ora ci stiamo bene tranquilli Facciamo un'altra modalità di sopravvivenza con il little Tony Signori miei Mi sono gasato Un'altra modalità di sopravvivenza con il little Tony Dai 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 little Dai little Anche perché raga mi dovete spiegare come funziona il football Non l'ho mai provato Mi dovete spiegare come funziona Allora stiamo calmi Calma e sangue freddo Calma e sangue freddo Qui c'è una cassa da 6.000 Nessuno mi rompe le scatole No Allora me la rompo Con calma Con calma Con calma Con calma Non rimaniamo senza proiettili Ok Abbiamo preso una prima sfera Là c'è qualcuno Là si stanno ammazzando male La te ti posso ammazzare La te ti posso ammazzare La te ti posso ammazzare No sono rimasto senza proiettili No 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 Sono pure mezzo morto Via 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 Recuperiamo la vita Recuperiamo la vita Siamo rimasti in 6 Siamo rimasti in 6 Dai dai Siamo rimasti in 5 Dai raga Comunque non potete dirmi Che faccio la tecnica Di quello che Si nasconde Perché dico Prima li ho ammazzati un sacco Qui non so dove siano Gli avversari Uuu Volevi Guarda quanti punti di energia Guarda quanti punti Bella quante sfera Via 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 Porta a casa Via 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 Ne abbiamo 4 Oh no Oh no Scegli mi vuole ammazzare Scegli mi vuole ammazzare Scegli mi vuole ammazzare Super colpo Super colpo Scegli l'abbiamo fatta fuori Sono senza Aia cazzo Sono senza colpi Uccidi 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 Il Little Tony falso Scontro finale Bello raga Scontro finale Scontro finale col messicano Scontro finale col messicano Raga ma siamo troppo forti In questa modalità Scusatemi Ma siamo dei mostri In questa modalità Non ci ferma nessuno Ma spettacolo Ne abbiamo vinte 2 su 2 Fantastico Ah per poco non sappiamo Saliamo di grado Esperienza Sì Tante cose belle per noi 80 punti in totale Ok Sto usando l'accensione Ma più tardi Ma cosa vuoi Siamo a 80 coppe dal negozio C'è una novità in negozio Che cosa Sì certo Secondo io spendo 3 euro Per Per valere dei potenziamenti No no Li otterrò da solo I potenziamenti Raga Qui possiamo fare niente Ok Siamo a 80 coppe Da 80 teschi Praticamente dal prossimo pass Però va bene così ragazzi Io per questo video Mi fermo qua Vi ringrazio Per aver guardato questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i suggerimenti Il nostro Little Tony Non lo ferma nessuno Signor me Noi ci vediamo domani Con un prossimo video Bella raga Ciao 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 Ciao